Ci saranno Fabrizio Castori, Francesco Magnanelli e Fabrizio Ravanelli alla serata di presentazione del progetto One for Eleven, centro di formazione calcistica, che si svolgerà lunedì 27 marzo a partire dalle 18.30 presso il nuovo cinema Smeraldo di Pistrino nelle comuni di Citerna. L'evento sarà l'occasione per rivivere le storie di tre carriere partite dai campetti di paese ed arrivate poi fino ai palcoscenici più importanti delle calcio nazionale ed internazionale. Durante la serata, dal titolo Il calcio racconta storie di sport, talento e passione, sarà presentato dagli organizzatori l'innovativo progetto One for Eleven. Il senso del calcio racconta e della presentazione di One for Eleven è quello di proporre un servizio per gli allenatori direttanti che credo abbiano bisogno di supporti perché la materia calcio è una materia complessa, fatta di tante competenze, forse più sei nelle categorie basse, più questi supporti sono necessari, non avendo staff e collaborazioni di altro genere. I personaggi che si onorano con la loro presenza rappresentano in maniera emblematica proprio chi dal basso, chi dai campi di periferia è arrivato ai massimi livelli. Noi non abbiamo la pretesa di insegnare niente a nessuno perché noi siamo solo gli organizzatori di eventi. Abbiamo creato questa sinergia sfruttando anche 50 anni di calcio in cui sono maturati e tanti rapporti a vari livelli che si permettono di poter, mese per mese, fornire questi servizi sia di aula che di campo. Siamo veramente onorati perché questa iniziativa rappresenta lo sport nella sua espressione più nobile. personaggi che hanno fatto la storia del calcio italiano e europeo, che vengono qua nel contesto del cinema Smeraldo di Pistrino a raccontare le loro esperienze, che sono esempio per i giovani, cioè dai campi di società sportive provinciali si può arrivare a vincere competizioni europee e nazionali.